Sei sveglio? Non male, eh? Ehi, vacci piano, piano! Vieni da un paio di giorni di incoscienza. Perché non ti rilassi per un secondo? Così ritrovi l'orientamento. Vediamo di che entità è il danno. Il tuo nome? Puoi dirmi il tuo nome? Ah, non posso dire che l'avrai scelto per me. Ma se è il tuo nome, è il tuo nome. Io sono Doc Mitchell. Benvenuto a Goodsprings. Spero che non ti scorci, ma ho dovuto scavare qua e là per la tua testa per tirar fuori tutti i pezzetti di piombo. Vado fiero del mio lavoro da ago, ma dovrei dirmi se ho lasciato qualcosa fuori posto. Come me la sono cavata? Beh, comunque la maggior parte mi è venuta bene. La roba che conta. Ok, non ha senso tenerti ancora a letto. Vediamo se riesci a stare in piedi. V... Vieni con me, ti accompagno fuori. Ecco, questa è... Devi essere quello che stava... Una... Vieni con me, ti accompagno fuori. Vieni con me, ti accompagno fuori. Vieni con me, ti accompagno fuori. Vieni con me, tiOM. Vieni con me, ti domarcissica. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Come posso esserle utile? Ehi, benvenuto. Ehi là, amico. Ehi, ciao! Gli occhi del potente Caesar. Ehi tu, aument... Salve! Dove andiamo? Ehi, benvenuto. Ehi, nessuno ha... Non andare... Ehi, nessuno ha... 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 Ehi... 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 Ciao, questo è Wow Avvicinati all'area di dimostrazione, per favore Ok, quindi hai già fatto Il nostro alloggiamento in Il nostro braccio sinistro E per la repressione Sono tutte state belle È qui che si fa in Da tutto questo tempo Adesso guarda qui Con il lanciavissilier E un sistema di lanciagra L'aggiornamento del sistema Nel complesso questo aggiornamento New Vegas ha finalmente Sperato Ogni secchio vedranno i red Ehi, ciao ancora What? Alla prossima benvenuto alla street di vegas non adori vedere il lucky non 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 Un inviato E così il corriere che aveva imbrogliato la morte al cimitero fuori da Good Springs Aveva beffato la morte ancora una volta, cambiando per sempre la zona contaminata del Moab Il corriere, con l'aiuto di Yes Man, scacciò sia la Legione sia la RNC da Hoover Dam Assicurando l'indipendenza di New Vegas da entrambe le fazioni Con il Signor House fuori gioco, i Securitron rimasti sulla Strip stentavano a mantenere l'ordine Le strade erano in preda all'anarchia Quando si estinsero gli incendi, New Vegas rimase in piedi assumendo il suo ruolo di potenza indipendente nel Moab Senza mai schierarsi né accanto ai migliori della RNC, né con i peggiori elementi della Legione Il corriere passò alla storia come il fondatore di una New Vegas veramente indipendente Aveva spodestato il Signor House dalla sua posizione di dominio sulla Strip E messo fine all'influenza della RNC e della Legione di Caesar nella zona contaminata del Moab Quando la zona contaminata divenne una terra senza legge, i boomer continuarono a difendersi dai prospettori e dagli sciacalli che invadevano il loro territorio La confraternita sfruttò la battaglia di Hoover Dam come opportunità per riprendersi Helios One Conquistando il controllo sull'area compresa fino a Iden Valley Senza opposizione organizzata, le pattuglie iniziarono a monitorare il commercio lungo la I-15 e 95 Confiscando tutta la tecnologia ritenuta inappropriata I demoni invasero Ken McCarran durante la seconda battaglia di Hoover Dam Nei mesi di anarchia che seguirono, i demoni affermarono il loro dominio su Outer Vegas Dopo che il corriere ebbe garantito la libertà di New Vegas I seguaci scoprirono che Vegas indipendente era ancora più instabile e violenta che mai Old Mormon Fort divenne eccessivamente provato dall'influsso dei pazienti Faticando a fornire anche i servizi più semplici Da quando è stata dichiarata formalmente l'indipendenza di New Vegas Good Springs divenne fiorente Si fermavano a Good Springs più viaggiatori di passaggio per la Strip E la gente del posto ha prosperato grazie a loro I King mantengono il controllo di Freeside E continuano a favorire gli abitanti locali Pur tollerando la presenza dei cittadini della sconfitta RNC Forte di un vasto arsenale di bombe improvvisate e armi rubate La Powder Gang del Volt 19 tormentò per anni la zona contaminata del Mojave I cittadini dell'RNC erano gli obiettivi primari e subivano sempre la sorte peggiore E così il viaggio della ragazza corriere è giunto alla fine Almeno per ora Nel nuovo mondo della zona contaminata del Mojave i combattimenti continuarono Ci furono altri spargimenti di sangue E molti vissero e morirono Così come avevano sempre fatto Anche nel vecchio mondo Perché la guerra La guerra non cambia mai